7 il mattino dopo ho chiamato il cameriere e gli ho dichiarato che volevo che le mie spese fossero annotate su un conto a parte la mia stanza non era così cara da spaventarmi tanto da farmi lasciar subito l'albergo avevo ancora 16 federici e là là c'era forse la ricchezza è strano io ancora non avevo vinto niente eppure mi comportavo sentivo e pensavo come un riccone e non potevo immaginare me stesso altrimenti nonostante l'ora mattutina avevo deciso di recarmi subito da mister astley all'hotel d'angleterre che era lì vicino quando a un tratto è entrato in camera mia de griot una cosa del genere non era ancora mai accaduta e per giunta negli ultimi tempi i miei rapporti con quel signore erano stati estremamente tesi e ci comportavamo praticamente come due stranei lui non nascondeva affatto il suo disprezzo per me e anzi si sforzava di manifestarlo io per parte mia avevo delle buone ragioni per non sentirmi ben disposto nei suoi riguardi in una parola lo odiavo la sua venuta mi ha molto stupito e ho intuito subito che doveva esserci sotto qualcosa de griot è entrato con aria molto amabile e mi ha fatto un complimento sulla mia stanza vedendo che avevo il cappello in mano mi ha chiesto se avevo intenzione di andare a passeggio così presto sentendo che stavo andando da mister astley si è fatto pensieroso e il suo volto ha preso un'aria estremamente preoccupata de griot era come tutti i francesi cioè allegro e amabile quando ciò era necessario e vantaggioso e insopportabilmente noioso quando non era più necessario essere allegro e amabile di rado i francesi sono allegri per natura sono sempre allegri su ordinazione o per calcolo se per esempio un francese ritiene necessario fare l'originale il capriccioso insomma il tipo un po' eccezionale ebbene i suoi capricci incredibilmente sciocchi e innaturali assumono invariabilmente delle forme già comunemente accettate e involgarite il francese al naturale è una quintessenza del più borghese meschino e comune spirito positivo è insomma l'essere più noioso di questo mondo secondo me soltanto dei novellini e specialmente le signorine russe possono lasciarsi sedurre dai francesi a qualsiasi persona per bene appare immediatamente evidente e insopportabile il burocraticismo di quelle forme di amabilità disinvoltura e allegria da salotto accettate una volta per tutte vengo da lei per una faccenda ha cominciato a dire de griot in tono straordinariamente disinvolto ma allo stesso tempo cortese e non le nascondo che rappresento qui l'inviato o per meglio dire l'intermediario del generale conoscendo molto male la lingua russa ieri non ho capito quasi nulla ma poi il generale mi ha spiegato tutto dettagliatamente e confesso mi scusi monsieur de griot l'ho interrotto io ecco che lei anche in questa faccenda si presenta come un intermediario io naturalmente sono solamente un uccitel e non ho mai aspirato all'onore di diventare un amico intimo di questa famiglia o di stabilire con essa dei rapporti particolarmente confidenziali e quindi non sono al corrente di tutte le circostanze voglia pertanto spiegarmi lei è già ora in tutto e per tutto un membro della famiglia già che a dire il vero lei prende immancabilmente talmente parte a tutte le loro faccende si presenta sempre come intermediario la mia domanda non gli è piaciuta evidentemente gli è parsa troppo diretta e lui non voleva scoprirsi sono legato al generale in parte da affari in parte da certe particolari circostanze ha risposto seccamente de griot il generale mi manda da lei per pregarla di abbandonare le intenzioni che lei ieri gli ha manifestato tutto ciò che lei ha architettato è naturalmente molto ingegnoso ma il generale mi ha specificatamente pregato di farle presente che comunque lei farà un buco nell'acqua non soltanto il barone non la riceverà ma in ogni caso egli ha sempre a sua disposizione tutti i mezzi adatti per impedirle di importunarlo in qualsiasi modo ne converrà anche lei e allora mi dica perché continuare il generale le promette formalmente di accoglierla di nuovo in casa sua non appena si presenteranno delle circostanze favorevoli e intanto di tener conto del suo stipendio vu appuntament ciò è abbastanza vantaggioso non le pare ho replicato con molta calma che forse lui si sbagliava che forse il barone non mi avrebbe scacciato e al contrario mi avrebbe ascoltato e infine gli ho chiesto esplicitamente di confessare che lui evidentemente era venuto da me per tastare il terreno e per cercare di sapere come io avevo intenzione di comportarmi dio mio ma è naturale che essendo se la presa tanto a cuore il generale avrà piacere di sapere che cosa lei farà e in che modo è una cosa così naturale ho ripreso le mie spiegazioni e lui intanto mi ascoltava semi sdraiato con la testa un po' piegata da un lato e una chiara non dissimulata espressione ironica sul viso in generale de griot aveva un atteggiamento straordinariamente altezzoso io per parte mia mi sforzavo in ogni modo di far finta di considerare tutta la faccenda con la massima serietà gli ho spiegato che il barone rivolgendo al generale una lagnanza nei miei confronti proprio come se fossi un servitore del generale in primo luogo mi aveva privato del mio impiego e in secondo luogo mi aveva trattato come una persona che non era in grado di rispondere di se stessa e con la quale non valeva neanche la pena di parlare di conseguenza era giusto che io mi sentissi offeso tuttavia comprendendo bene la differenza di anni di condizione sociale eccetera eccetera dicendo questo mi trattenevo a stento dal ridere non intendevo assumermi la responsabilità di compiere un'altra leggerezza e di chiedere direttamente soddisfazione al barone o anche soltanto di offrirgliela ciò non di meno io mi sentivo pienamente in diritto di presentare le mie scuse al barone specialmente alla baronessa tanto più che in questi ultimi tempi io mi sentivo effettivamente indisposto sconvolto e per così dire un po lunatico eccetera eccetera tuttavia il barone stesso rivolgendosi il giorno prima al generale chiedendogli che mi privasse del mio impiego mi aveva offeso e mi aveva messo in una posizione per cui ora mi era impossibile presentare a lui e alla baronessa le mie scuse già che in tal caso il barone stesso la baronessa e tutto il mondo avrebbero certo pensato che io mi scusavo solo per paura e per riavere il mio posto da tutto ciò ne conseguiva che ora mi trovavo costretto a pregare il barone di prendere l'iniziativa di presentarmi lui stesso le sue scuse magari nei termini più neutri dicendo per esempio che non aveva affatto avuto l'intenzione di offendermi se il barone avesse detto una cosa simile ebbene io allora sinceramente e con tutto il cuore per così dire con le braccia aperte gli avrei presentato anch'io le mie scuse in una parola ho concluso chiedevo soltanto che il barone mi slegasse le mani ma quanto puntiglio e quante sottigliezze e lei poi che bisogno ha di scusarsi ma convenga anche lei monsieur monsieur che in fondo lei sta montando tutta questa faccenda a bella posta per indispettire il generale e forse chissà lei persegue anche certi suoi scopi particolari mon cher monsieur pardon j'ai oublié votre nome monsieur alexis ne sais pas voglia scusarmi mon cher marquis ma a lei che gliene importa me le general e il generale che c'entra ieri lui diceva che doveva mantenere un certo decoro si è talmente allarmato ma io non ci ho capito nulla ecco proprio a questo punto interviene una certa particolare circostanza riprese de griot in un tono di preghiera da cui però traspariva sempre più l'irritazione lei conosce mademoiselle de cominge cioè mademoiselle blanche sì appunto mademoiselle blanche de cominge e madame sa mère ne converrà anche lei il generale sì insomma in una parola il generale è innamorato e perfino può darsi sì può darsi anche che si celebra il matrimonio in questa situazione lei comprenderà che se scoppieranno scandali o si faranno storie in questo momento io non vedo nessuno scandalo o nessuna storia che riguardino il matrimonio in tal caso la farà con me e non con lei dal momento che io ormai non appartengo più alla casa cercavo a bella posta di dimostrarmi il più sconclusionato possibile ma permetta una domanda dunque è già stabilito che mademoiselle blanche sposerà il generale e allora cosa aspettano voglio dire che ragione c'è di tenerlo ancora nascosto perlomeno a noi altri gente di casa io non posso dirle del resto non è ancora assolutamente certo comunque lei saprà che si aspettano notizie dalla russia il generale deve sistemare i suoi affari ah la bobulinca de griot mi ha gettato un'occhiata carica d'odio in una parola mi ha interrotto io confido pienamente nella sua innata amabilità nella sua intelligenza nel suo affariato lei naturalmente farà questo per questa famiglia dove è stato accolto come uno di casa dove è stato amato e rispettato mi scusi ma se mi hanno cacciato lei ora sostiene che ciò è stato fatto solo per salvare le apparenze ma converrà lei stesso che se le dicessero io naturalmente non vorrei assolutamente tirarti le orecchie ma permettimi di tirarti le orecchie tanto per salvare le apparenze ebbene per lei non sarebbe praticamente lo stesso ebbene le cose stanno così se non c'è preghiera che possa smuoverla allora mi permetta di assicurarle che saranno prese delle misure ha preso allora a dire de griot in tono severo e arrogante qui ci sono pure delle autorità e oggi stesso la spediranno via di qui che diable on black con vu che vuole sfidare a duello un importante personaggio come il barone e lei si immagina che la lasceranno fare creda pure che qui non c'è nessuno che abbia paura di lei se io l'ho pregata l'ho fatto più che altro di mia iniziativa perché vedevo che lei infastidiva il generale e lei davvero si immagina che il barone non la farà buttare fuori dal suo lacchè ma non ci andrò mica di persona ho replicato io con un sangue freddo straordinario lei è in errore monsieur de agrio tutto si svolgerà in un modo molto più decoroso di quel che lei si immagina sto appunto recandomi da mister astley per pregarlo di farmi da padrino insomma di essere il mio second mister astley mi vuol bene e probabilmente non rifiuterà si recherà dal barone e il barone lo riceverà se io sono solo un uccitel e figuro come un personaggio subalterno e quindi in definitiva mi trovo senza difesa in compenso mister astley è nipote di un lord un autentico lord lord peabroke questo lo sanno tutti e questo lord si trova qui creda pure che il barone sarà molto gentile con mister astley e lo ascolterà e se per caso non lo ascoltasse allora mister astley si considererebbe personalmente offeso lei sa come sono ostinati questi inglesi e manderebbe al barone un suo amico e lui ha dei buoni amici provi un po ora a immaginarsi cosa ne verrà fuori e vedrà che forse le cose non andranno come lei suppone il francese ha decisamente preso paura effettivamente tutto ciò appariva molto verosimile e quindi ne derivava che io ero davvero in grado di montare una storia ma io la prego ancora ha ripreso allora a dire de griot in tono decisamente supplichevole lasci andare tutto questo è chiaro che lei è tutto contento che ne venga fuori una storia lei non ha bisogno che lei sia data soddisfazione lei vuole a tutti i costi montare una storia le ho già detto che tutto questo può dar luogo a qualcosa di divertente e perfino di spiritoso e che lei forse otterrà questo risultato insomma ha concluso vedendo che mi ero alzato e prendevo il cappello io sono venuto per consegnarle questo biglietto da parte di una certa persona lega dunque io l'ordine di aspettare la risposta così dicendo de griot ha tirato fuori di tasca e mi ha porto un biglietto ripiegato e suggellato di mano di polina c'era scritto mi è parso che lei abbia l'intenzione di continuare questa storia lei si è arrabbiato e ha cominciato a far monellerie ma qui ci sono di mezzo delle particolari circostanze che io forse più tardi le spiegherò intanto però la smetta che razza di sciocchezze son queste io ho bisogno di lei e del resto lei stesso ha promesso di mettersi al mio servizio si ricordi dello schlangenberg la prego di dimostrarsi obbediente anzi se fosse necessario glielo comando la sua p p.s. se lei è ancora arrabbiato per ieri la prego di perdonarmi quando ho letto queste righe mi è parso che tutto mi si confondesse davanti agli occhi le labbra mi si sono illividite e ho preso a tremare quel maledetto francese era lì in attesa con un'aria di ostentata discrezione e aveva perfino distolto gli occhi da me come per non rilevare il mio turbamento sarebbe stato meglio se mi si fosse messo a ridere in faccia sta bene ho risposto dica pure a mademoiselle che stia tranquilla mi permetta comunque di chiederle ho aggiunto con asprezza perché lei ha tanto tardato a consegnarmi quel biglietto mi sembra che invece di chiacchierare di sciocchezze lei avrebbe dovuto cominciare proprio da questo visto che era avvenuto da me con questo incarico beh io volevo in generale tutto questo è così strano che lei scuserà la mia naturale impazienza ero impaziente di sapere al più presto dalle sue stesse labbra quali fossero le sue intenzioni del resto non so cosa fosse scritto in quel biglietto e pensavo che non ci fosse tanta fretta di consegnarglielo capisco le era stato semplicemente ordinato di consegnare il biglietto solo come ultima risorsa e di non consegnarlo invece ha fatto se fosse riuscito ad aggiustare la cosa a parole è così vero lo dica francamente signor de griot peut-être ha risposto il francese con aria particolarmente reticente e fissandomi con uno strano sguardo ho preso il cappello l'altro è uscito con un ceno del capo mi è parso di veder aleggiare sulle sue labbra un sorriso canzonatorio e del resto poteva forse essere altrimenti noi due faremo i conti francesino della malora vedremo chi la spunterà borbotavo fra me scendendo le scale non riuscivo ancora a raccapezzarmi proprio come se mi avessero dato una bastonata in testa l'aria fresca mi ha un po' rinfrancato dopo qualche minuto quando ho cominciato a vederci un po' più chiaro mi si sono presentati nettamente alla mente due pensieri primo che da tali sciocchezze da certe inverosimili minacce formulate per monelleria il giorno prima quasi di passata da un ragazzaccio si era improvvisamente elevato un allarme così generale e secondo qual era dunque l'influenza che quel francese esercitava su polina bastava una sola sua parola perché lei facesse tutto quello che lui riteneva necessario scrivere un biglietto e perfino pregarmi naturalmente i loro rapporti erano stati sempre un enigma per me fin dal primo giorno che ne ero venuto a conoscenza tuttavia in quegli ultimi giorni avevo osservato in lei una decisa avversione perfino del disprezzo nei confronti di lui mentre lui non la guardava nemmeno e anzi arrivava a essere sgarbato con lei questo l'avevo osservato io stesso e del resto anche polina mi aveva parlato della sua avversione per lui certe volte le sfuggivano delle confessioni estremamente significative dunque lui l'aveva in suo dominio lei era presa all'accio otto alla promenade come la chiamano qui e cioè nel viale dei castagni ho incontrato il mio inglese ha cominciato lui avvistandomi io venivo da lei e lei viene da me dunque si è già separato dai suoi anzitutto mi dica come fa lei a saperlo ho chiesto meravigliato possibile che tutti ne siano al corrente o no nessuno ne sa nulla e non vale neanche la pena che lo sappiano non ne parla nessuno e allora lei come lo sa se lo so vuol dire che ho avuto modo di saperlo e adesso dove se ne andrà